ciao a tutti ragazzi e benvenuti questo nuovo episodio di call of duty ma è una roba molto speciale ragazzi perché i crits siamo su su player one pad mi fa schifo la vita io vogliamo allora ragazzi voi noi non abbiamo una webcam che prima dei mille iscritti non si mostra leggere youtube e anche perché non abbiamo soldi per prenderla la cuffia il che significa che c'è mister l che ha calcato su di crits e parte integrante dubbitereste molto la nostra eterossessione siamo un amalgamato nasi infatti quindi io sparo e io voglio sono a sinistra quindi miro lancio gli estordenti che non ci sono e selezioni i gadget con le frecce no aspetta tu poi si farà cambio anche guardate io pronto pronto vai sinistra e sinistra seguimi avanti ok ok c'è pronto pronto no a me mento se abbiamo ucciso il quadrato guarda tu vai 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 ho pronto lì pronto di sinistra dove dove sinistra 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 e non è più a destra dove non c'è brava ancora il corico di sinistra dove dove non è solo banoico un capito grazie alla mina bene o si sopra il tuo coordinato di coordinazione vai 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 ora coordinazione moda facca aspetta la vacca occhio occhio l'ho ucciso no non c'è una fregata dove 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 è siamo adesso è in alto la faccia non vediamo dove dove ecco bene sulla chi di una stardi bene ricarica vai vai guarda su se un camperone di livello vai vero vedo se un camperone di merda però e ammettilo e che cavolo io e io 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 sparo e basta vai cavolo sparo e non deve essere difficile vengo premuto qua bene o dopo il chiuso di gente gente sinistra si sta puntando quella sinistra sinistra allora cosa possiamo cosa bravo bravo ricaricare non ho più pregati dietro girati 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 ah giusto devo farlo io stavo pensando perchè non si gira ah è vero pronto pronto eh diciamo vita speciale mentre ti pronti usarlo madonna mia quando il dottore di solito rimasti qua complimenti novella destra guarda destra guarda destra si tattica come vedi che tu non sei sinistra ora dietro ma non ho gli riflessi abbastanza pronti girati vabbè ce n'era uno qua ma quanto son bravo a sparare spara normale prendilo 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 got him ma mira almeno salta 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 eh vabbè oh non son coordinato abbastanza sinistra sinistra ma quanto ricarica lì davanti a noi sinistra guarda sinistra dove 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 ah dove destra occhi pronto 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 destra ecco qua l'ucido ce ne sono alti ce ne sono alti abilità speciale vai ora penso io non sei fatto no io ho abilità speciale no io ho abilità speciale no uso la pistola no 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 siamo sposti salta 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 abilità speciale usa l'abilità speciale attacco speciale cazzo non si capisce un cazzo per me mi rinnovo per l'attacco speciale che sto prendendo il mio vai ora vai ora sii e ci abbiamo messo un po' per avvenzionarlo eh abbassati 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 bravo e siamo primi davvero in two player one bad cazzo guarda ah è vero siamo primi salta salta di sopra salta qui sopra oh ok sai che fare ora prima di morire dobbiamo girare tanti ah schifo dobbiamo fare ok come sempre mi muovo a zig zag così mi colpiscono peggio guarda in fondo ah è vero devo fare io e ti dico sempre bravo non ti ha girato poi mi rendo conto che dovevo farlo io cavolo destra ce ne vogliamo uno dietro è salito dove non capisco cazzo daffero bene ragazzo eh chi kamikaze bene gripper ok ok guarda di guarda di guarda di muori 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 per bene mi piace che ore sono salta attacco speciale attacco speciale attacco speciale ma possiamo attacco speciale eh dio buono vabbè sai eh vabbè ma dimmelo prima cos'è stato però tu sei vicino attacco speciale subito mi è colpa mi dimentico sempre che sono io a dover comandare ho sbagliato eh vabbè ma distraimi grazie dimmelo di fare l'attacco speciale riparati devo andare io dentro destra 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 ci vengono a prendere gli altri e c'è un altro c'è un altro ma tu no non vedi niente capisco perché perdi si sei una palla al piede no vabbè io almeno l'ho messo a dire così non mi sgamano avanti vedi senti indietro riparare ricarica sempre all'attacco speciale pronto? no dai stai indietro 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 vabbè ma vado sente che comandi a qua niente niente ok via 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 attacco speciale vado sei in vento me lo dici troppo in fretta non ci vuole niente a men balanced e vabbè cerco speciale intanto lanci la stordente eh mad eliminating porca troia eh va beh dai quando hai ma se ho tenuto la spalla col bastardo siamo primi ragazzi abbiamo vinto su player one part siamo primi aveva fatto schifo mettiamolo però vogliamo gli abbiamo scattati una vecchia non so sono in modalità soldate non esperto bisogna sempre inquadrare guardate qua guardate qua ok mi ingannammi le cup che si fa cambio postazione adesso gli olio rovinato per bene le scarpe no quello la che l'ho ucciso gli spavolos al piede ok cambio postazione ora si che si fa difficile perché perché io ho bisogno di abituare avanti sinistra vai ok mira mira fatto fa una l'abbiamo ucciso una l'abbiamo bene vai vai qua di qua ora dove è pronto 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 sono già destra mina la mina la mio vado io destra destra qua ora pronto calma calma non corre la vattene via si è cioè ma tu vai tanto troppo allo sbando cioè come sempre stisano un testo è stato pronto bacchiano non correre basta per questo per di rs e indietro indietro. prendere copertura guardi sempre spalle piazza c4 c4 del guano se mattino remania un po qua dentro campionale anche risponditi un po' di questo giusto famiglia indietro 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 diamo nella via principale dirà il casino non c'è un po' non capisco più niente pronto pronto non correre diretti destra 1 e poi bene vedete che è sì io sono sempre bersaglio attraverso attraverso il legno cazzo bene destra da dietro da dietro sto per prodotto io ho cominciato vita speciale cosa destra destra ce n'è una destra sinistra cavolo che bene che stavamo andando pochi occhio per il merda 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 e vabbè esponiamo che siamo difficili adegli devo anche tenermi salti e niente c4 la riparti riparti dietro di noi piano piano non correre non correre da scusa avanti con calma eccole uno bene è un andato sinistra sinistra destra cavolo abbassa devi abbassarti tu comunque ah cavolo è vero mi accolto piano 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 eh si però se ti sparano mobili andiamo eh te lo metti in basso a destra il punteggio sali qui sopra bisogna cantare un po' ok it's time to camping come sempre ricordi quando sparano fammi ricaricare poi bene sono un killer destra ok no siamo a posto lo andiamo a lutto spero non ci ne siano due eccolo la vabbè sto guavola ci voleva male la vita bravo bravo pazzo ricardi riparti riprova ah cavolo eh già eh già eh già eh già piano piano fermati no eccolo porca vacca pronto eh mi hai preso l'astrovvista quando ti senti la piccola bene 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 avanti ok bene bene un po' muoviti muoviti che i bot ci circondano se stiamo fermi le spalle le spalle vedi che dentro c4 pronto abilità speciale forse ci ritroviamo davanti guarda qua ok bene pronto forse ce ne sono due di uno eh bene vai 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 destra sinistra basta forse io ho visto male eccolo quello cazzo merda non siamo primi non va bene 19 e 90 dai non è negata ho fatto un headshot a caso si vai bene coordinati c4 qua che dovrei bloccare che ce ne... piano qua eh dietro avete coordinazione di un puccino spastico ok piano piano fermo fermo rallenta 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 abbassati accucciati hai meno angolo di visuale c7 eh lo so sono pirla il dato l'altro non ha fatto altre chi non l'ha fatto invece e qui non vedo niente 20 20 scattare la voglia a ovvio piano piano ci mi sta sentita caro perché caro non lo divertivo io oh scappa 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 allora eh subito bene aspetta lì aspetta lì aspetta lì asponditi dietro 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 non ho visto il video vediamo sto qua che che veniva verso di noi tu doveva andare a minazione esponiti 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 no nessuno nessuno bene qua qua non trovo ancora nessuno vai piano 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 mira lontano dai che sei fatto bene bravo cazzo eh ci sono le chilo che mente hai ucciso quello giusto cavolo 26 26 no 27 26 vedi che è l'ultimo che chi stai sparando 28 27 e 28 eh 29 29 no no le munizioni pronto corri 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 vai in mezzo 20 l'ultima l'ultima ce ne manca una dove dove oh ma dammi il 5 dammi il bro brofist oh 29 combattutissima con un bot ma prima eravamo 30 23 guardate la che eravamo disperati quei anni con la pistoletta corri 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 è morto subito e sto qua era spaesato stava pensando dove dove andavo sponiamo davanti noi quel fucile o è il bot la e già che gli ero del culo il robot era che faceva tanti danni mi taglietta è la sua la capa doppata la capa doppata come la capa doppata ah si la capa doppata eh si il caricatore la distingue scansione il radimento di culo ok fermiamoci qua e cambiamo guarda di quanto dicendo eh va bene noi ora ci fermiamo qui ragazzi e ci si vede al prossimo gameplay a te che sei di sinistra per staccare ciao a tutti